Buonasera ragazzi, siamo al nuovo nostro video dove è un evento speciale oggi che partiremo finalmente una nuova stagione un nuovo progetto di questo canale del Susie Team la carriera abbiamo deciso di iniziare con una squadra italiana che ci avete proposto tra cui che la questa squadra che ci avete richiesto è la Sampdoria dove negli anni precedenti è stata una buona squadra che si qualificava anche in Europa e la vogliamo riportare di nuovo a quei livelli ovviamente scegliendo buoni talenti anche dalle vostre proposte il primo obiettivo di quest'anno è quello di salvarsi poi chi è? vabbè Europa League se riusciamo Europa League ovviamente ha la difficoltà massima perché dobbiamo essere serie ovviamente noi facciamo le cose per bene cose serie fatte bene e secondo anno è puntare massimo alla Champions massimo al terzo anno vediamo se vince lo Scudetto e anche magari prendere anche una squadra in carico di nazionale per vincere cercare di vincere mondiale primo anno indiettamente si si ragazzi partiamo subito con la nuovo episodio nuovo episodio? andiamo? andiamo con la sigla allora tutto tutto buonanese ragazzi siamo nuovamente con il nostro primo episodio dalla carriera dove inizieremo questa carriera con la Sampdoria si ragazzi vi faccio vedere le prime giornate in cui avremo la Coppa Italia col Venezia e il benevento è la Fiorentina dove cercheremo di portarla nel video per adesso la prima cosa che vi faccio vedere è il mercato i giocatori che vorrei acquistare allora come portire abbiamo scelto Cragno anche se come portire per adesso è l'ultima scelta perché abbiamo già Viviano e Pugioni che sono due ultimi portieri Bastuni è un buon difensore che diventa forte Bonifazzi Castan vorremmo riportarla e farla anche capitano della Sampdoria Tonelli sarà impossibile prenderlo Skriniar si lo so che voi vorremmo prenderlo in prestito DHB e D-Hop sono due talenti di Francisi Rolando sempre un difensore di esperienza Sar sempre difensore Francisi possibile da prendere possibile da prendere Sarracchi è uno dei talenti che vorremmo prendere anche Barella vorrei provare quest'anno Danilo Best ho mai provato in qualsiasi FIFA non so cosa mi ha preso però è un dei cittacapissimi preferiti Gerson Sensi Zielis che cercheremo di prenderlo in prestito perchè sarà difficile per lì Bombè Pavon Pavon ma ciò darà ce l'ho darà ce l'ho darà questo video in colore bene detto questo qua baraglio vorrei provarlo che gioca nel nel parco 4-3-1-2 non abbiamo esterni 4-3-1-2 va bene si beh c'è schiaviamo ma chi è? ma sta schifo eh via via regini è scandalo sono Strinci Strinci giocano sono due torriera Barreto dovremmo prendere al massimo cittacampisti di questa merda Ramirez forse dovremmo no Ramirez non è male è male punto abbiamo capra zapato quagliarella e carano se sei la punta per adesso non è la priorità ma la prima priorità è quello di prendere difesa centrale è un interzino interzino sinistro destra due difesa centrale in merito perchè siamo un po' a con un gioco cominciamo a vendere qualcuno che non ci interessa non ci interessa non ci interessa viviamo a mettere in vendita anche se è vecchio no ma cos'è un gol di soldi 31 anni 31 anni più giugno in vendita ma che stasera aveva fatto la calcio stasera è più giugno è vecchio cosa sei giovane grazie Ivan silvestre scandalusso quindi si vende veloce ferrari con lo giovane già marco ferrari la scoria e jean da vendere anche se mi dispiace capita giugno non ho pure il murco in sinistro se lo c'è tanta è ivan in prestito marito via vero lasceranno in prestito diventa lo lasceranno in domanderei capezzi lo stesso dodo si vende non bugia non è più praet duricic no con macchina testa modello sull'assessore di si paga vabbè dai non so se lo prendiamo vendiamo scriviamo fare una carriera serie di un anno prossimo avremo più forte lo vedremo con qualsiasi prezzo ok chi parla prendiamo subito un difensore quando il vero quanto di tutti ma sono tutti su un anno 20 minuti 15 20 prima difensore casa primo prima difensore è castane andiamo subito a trattare per come un portale di nuovo castan alle sue origini però non è giocato facciamo difensore centrale proviamo a mettere silvestre che ovviamente ma la destra non c'è evo ipo tra la roma c'è un cartello di 4 milioni forse ci hanno 5 milioni per 4 più un costo di vendita 4 più cinquecento quattro e mezzo che aspera sta annunci posto a fare 4 e 6 anni a siiii accettiamo dai 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 si perca sta moccaci conci si non è trattiamo subito con giocatura anche se noi siamo le assai prendo assai prendo assai prendo assai prendo assai prendo assai prendo assai lo devo prendere io al break wow cruciale si perchè entra il capitano di questa nuova Sampdoria come stiamo alle pezze stiamo male ci mettiamo per una clausola perchè a 30 anni diciamo 3 anni perchè noi dobbiamo non credo accetti accettato io voglio una clausola facciamo una contro offerta facciamo una clausola di 20 milioni perchè a 30 anni una clausola di 11 milioni neghiamo ovviamente ci abbiamo provato 59 mila voi 59 mila quanto prendeva no lo dici ovviamente i rivoli come uno di bonus perchè prendiamo una cinquanta diamoli in cinquanta cinquanta cinque e' un cinquanta ci prendiamo una cinquanta con un po' di bonus ci ha mandato a quel paese sto figlio di puttana se ne è andato a casa se ne è andato ragazzi il primo giocatore è andato via vogliamo essere molto stretti di culo a screener questa semmai c'è uno non 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 c'è uno problema proviamo a prendere Rolando è uno uno dei migliori difensioni in europa qui ha giocato pure nell'inter ha giocato pure nell'inter e nel napoli anche se ha fatto schifo ragazzi fateci monetizzare questo video perchè dobbiamo fare molti soldi vediamo se non c'è un like terzino destra giro saccagan vediamo sa oh oh hanno fatto un accordo con su scuola sala sar sala sala sar no sar sala sar sala ronald ronald ma che cazzo è ronald ronald ahahah l'importante ha dato un terzino a me ce lo prende un terzino sui chi prende un terzino sui chi prende un terzino in mezzo fa niente gli mettiamo pure la clausola di 15 milioni perchè voglio in un anno massimo 2 facciamo 3 dai oh erati coglioni dammi 2 mettiamo c'è una cosa di 15 milioni anche 14 mattimo 10 ne chiamare chiamare la clausola perchè comunque non ma ci possa non è 300 che veramente io non cerchiamo sempre di abbazzare di abbassare no noi cercheremo sempre di abbassare un svegliere che comunque i soldi non c'entra non c'entra non c'entra 25 più buoni singoli 3 milioni 3 4 4 313 costa 30 facciamo 30 32 35 35 35 con 34 non si muovono non si muovono mi sa che se ne vanno roma gli diamo i stessi soldi gli diamo i 300 che abbiamo dato vediamo se può trovare un accordo diamo 34 mi sa che se ne sta per andare Rolando di no non se ne andrà perchè gli arrivo 34 che deve accettare accetta ha un bisogno del tempo di riflettere per 500 euro per 500 euro ragazzi per 500 euro noi non abbiamo comprato Rolando è in stallo è in stallo ma veramente e poi può accettare dopo non l'ho mai passata tu l'hai fatta si ma tu si può passare il culo non gli dai mai i soldi però con i facci è un difensore giovane dell'under 21 di che nazionalità spiega nostri devi interloquire abbiamo uno scambio di giocare tu l'hai qui mamma mia gli diamo silvestre anche se sarà 71 non mi faccio mamma mia gli diamo ivan tanto non è assente ma palla 266 ma palla gli diamo 2 milioni gli diamo 2 milioni più ivan tanto ivan non ci serve costo 1 milione cosa stanno la last win? non so stai gli diamo 3 milioni più ivan dai 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 facciamo 2 mila e 7 più una clausola lo a 0 c'è segnato il popolo mamma mia scena mezzo più gol no non vinciamo vinciamo lo stesso no e poi devo contare i punti the bones stanno già i bones non so se io prendo tra bonifazio e ro bonifazio e giovane prendere bonifazio prenderemo bonifazio dobbiamo fare una carriera comunque con i giocatori giovani italiani ovviamente ovviamente vediamo qua oh kevin kevin non è il nome italiano dai bonifazio tratta ho fatto un buon anno alla spalla l'anno scorso graffa che non sono dicendo ma questo vince solo ma questo vince solo ma siamo turn over ma chi è bonifazio ok ok prendiamo giocatori di esperienza che farà il capitolo di nuovo che sono la san doria prendiamoci altri campisti esperienze cattivo vediamo 20 mila che 25 sono un po' troppo i bonus vanno bene acquisto è il nostro primo acquisto di questa nuova carriera nuova serie 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 se ragazzi una nuova serie questa è bonifazio come ne puntiamo sull'italia barriera corto barriera corto barriera corto barriera corto presto 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 l'italia 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 manca strano milioni metti lì sì sette 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 sei e mezzo più no si è sette una 5% grande questa è un'operazione bella un giovane che giocherà ventola mettiamo pure una clausola facciamo una clausola di 30 una clausola 35 20 sì 20 30 30 30 30 ma non accetto l'allevola porteggi con un scopo mandare di più appunto cazzo è questo fatto barella è diventato ma che barella è forte vediamo 20mila più 300 35 a giugno è ridicolo oh ma no come un 20mila un giocatore che gioco nel cagliere si ma forse prendevi più di un mò non lo sapete non ho senso però con cui lo pare poi hai senso il mio mò pure i ma sa c'è uno soldi acquisto ma questa cara la fa ma questa è stata la cinquira ma hai una giocatura di acquisto ma hai una giocatura di vento anni c'è trocampissimo è debarrito quello che vogliamo dare ma la città 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 sassuolo ricordo 12 15 milioni 8 sensi e' rifiutato non so non so non so non so non so non so sarà che tutti i gisci certi non so proviamo non so ma spermo facciamo andrà avanti ci riprendiamo di un parello ah ci può si non andare con città tu vuoi dare città dai un attaccante dai un attaccante eh cittimuno vabbè questa è la testa vedi voi non è così se tu devi dare attaccanti voglio dare città città bella a tutti i ragazzi ce l'andiamo a prendere stavolta no no stai pagando stai pagando non pagare te la fitta c'erano i soldi rischiavamo offerto per parello ah ah regina barrito sempre ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è regini regini aver trovato il suo momento no e cerchiamo di abbassare adesso ma ti dire diamo stesso quanto volevo se mezzo ok diamo la clausola la cosa è successo la rivendita 15% è a bordello 15% sono una rivendita è assai che lo vendi a 30 milioni quindi dai un sacco a 12 milioni 15 milioni 5 6 un importante 35 mila euro prendi 19 20 vabbè siamo dei grandi colline mettiamo la clausola perché ho sbagliato come ho sbagliato metti 34 minuti 35 momenti si ok vabbè ma lei non è vero come non sono chilo chilo e metti 30 quanto 30 30 30 si più 300 50 350 e metti a giugno metti a presenza 10 a 25 25 20 milioni ma c'è una volta che c'è il figlio abbassato pure ok abbassato tutto basso perchè abbassano tutti vabbè prima madre monocatori di esperienza mi è venuta una grandissima idea un attaccante di esperienza torres torres scede l'opera alla sandoria sarebbe un sogno sarebbe veramente colpa giugno che di no villa non la voglio non mi piace mica voglio che torres sarebbe un colpa proviamo a mettere quagliarella una trattativa si no peccato quagliarella finita la sua opera ragazzi dovevo fare la cazza ahahah tolto uno qua sarebbe un sogno ragazzi se riusciamo a prendere torres like abbiamo solo quei soldi diamo quagliarella intanto pensi che accettano non alla destra che abbiamo? no cartellino premo ma vuoi dare alla destra? eh la iman solo fa non pensi che la prendi premo 9 9 a 3 e noi ce l'andiamo a prendere ragazzi ce l'andiamo a prendere ci stanno ci stanno ci stanno torres è il vero acquisto che ci serviva questa tandoria fascia da capitale ovviamente capitale cruciale ovviamente diamo tutti cruciale ovviamente mettiamo pure una clausola perchè ha 33 anni ah li mettiamo 15 cosa che è? 20 20 20 20 20 20 30 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 c'è un po' i fondi non si ingancia un milione proviamo così 3 milioni vogliono porca p***a no 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 siamo fottuti si fa tanta ragazzi non abbiamo soldi banca rotta si sbaglia qui è frettoloso è agitato sta tremando in questo momento non sa cosa fare perchè non abbiamo soldi devi avere i bonus ah il bonus coglione prova dai no dobbiamo aumentare lo stipendio mettiti 80 di stipendio no metti di più mettiti stanto 2 milioni mettiamo 2 milioni qua dai mettiamo soldi accetto accettato ci siamo portati a dare a casa impressionante adesso cerchiamo di vendere abbiamo soldi dobbiamo vendere titolare direttamente capitano torres dobbiamo vendere quagliarelle ragazzi abbiamo avuto un'offerta su viviano in cui bisogna vendere prenderemo un pochino più giovane proveremo con 25 milioni manca le faccio un po' di denaro liquido proviamo 20 5 ma andate a cagare date guardate ragazzi non riusciamo a vendere occhio barretto via per qualsiasi prezzo non trattiamo neanche barretto via per 2 milioni e 7 incredibile pochissimo ma barretto fa schifo abbiamo preso barrella bonifazio torres viviano 15 milioni e 7 dalla roma abbiamo avuto ancora una trasferenza per torrira proveremo a sparare 25 22 facciamo 22 torrira anche se è forte costanta si non solo 22 di più 17 no 22 facciamo 10 per cento fai 20 21 e mezzo si avvicina arriviamo a 20 però torre for a per un milione va bene va bene io lo devo vento vabbè dai viviano qui ci vediamo faccio 17 ciò 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 20 no fai 19 19 milioni per viviano e lo andiamo via veloce veloce ci prendiamo un portiere giovane no ci prendiamo un'impresa non vediamo i portieri non prendere scuffetto la nostra uova uova ucrania scarso cazzo fai per vedere ma sono no st 3 no 2 proviamo con ma lì sono della roma ma sono cazzo cazzo i nostri presto scrivevo prendere io skorupski dove è stato? la roma secondo la roma quanto è? ma se mi piace con furtivo c'è la stanta a sita la stanta a sette cazzo se ne va ma se la fa poco schifo viana che ha detto? accettata che ha detto varietà abbiamo venduto ci prendiamo l'axalto non l'axalto ci va niente non so vediamo con la vendita qua ci prendiamo un terzino e l'ostocampista come è andato? come è andato? come è andato? come è andato? lo mandiamo 8 milioni non trattiamo neanche facciamo prendere un terzino destro serio con la vendita di Barreto Sala eeeh Alvarez prendere un terzino adesso Quagliarella Saltavigo 5 milioni almeno 7 almeno 8 dai almeno 8 milioni Quagliarella per chiudere chiudere la carina c'hai detto? c'èmo 7 e mezzo dai fai 8 8 è normale che cazzo? sguagliarella stanno 8 si 8 si fai 7 e mezzo c'èmo 7 dai ragazzi dai dai ragazzi 7 e 4 arriviamo arriviamo 6 e 9 6 e 9 che sto per la tour 7 e 100 7 e 100 7 e 200 dai 7 e 200 dai accetta accetta 3 7 mila euro dai vediamo come parti stiamo vendendo stiamo vendendo per adesso Quagliarella sono 7 8 Alvarez Sala 5 e più Barreto ci andiamo a prendere un terzino adesso un trequartista che c'è che c'è un trequartista abbiamo no abbiamo solo Ramirez ma anzi aspetta bugia aspetta qui abbiamo Praet trequartista ci andiamo a prendere un trequartista c'è un bel terzino adesso veloce forte forte forse un bel terzino adesso moremo Montoya no vediamo 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 prima quelli poi ragazzi abbiamo anduto Silvestre e quindi andremo a prendere un altro difensore centrale abbiamo anduto sulla Silvestre abbiamo anduto Ramirez Alvarez 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 Barreto Guagliarella e il terzino a destra Sala come andremo a prendere un terzino adesso difensore centrale un trequartista vediamo Torrida proviamo a fare Torrida no non vado bene che vuoi vedere? 30 non dimeno ti lo vuoi Torrida forte proviamo 35 dai vabbè io non vado bene sai 35 non dimmi 6 no dai tutta proprio tutta proprio ma sai che possiamo andare? e ci siamo allora andiamo a prendere il terzino destra eh provo Calabria a destra abbiamo 6 milioni 6 milioni 6 milioni Calabria vi è davanti da reggio se se 7 7 7 andiamo a 7 e 3 andiamo subito a prenderci Calabria 40 40 vedi che lo prenderemo? 45 gli diamo a tutti dai che ci serve il terzino? si si carer il nostro prossimo a questo ragazzi carer siamo 6 milioni dai anzi 5 per carer per la closula di nuve quanto è di overall? 73 53 anche overall 5 più closula diventa all'8 si sono a prendere veloce trattiamo subito con carer primo carer per adesso è l'ultimo per adesso dovrebbe essere l'ultimo turn over accettiamo subito 4 anni va bene segnare la closula siamo a 20 mila 25 25 50 mila siamo a fare la rucola carer e della Samp lo metteremo subito in titolare ehm ragazzi adesso presentiamo la squadra i giocatori che abbiamo preso iniziamo con Viviano portiere titolare Calabria a destra pagato 7 milioni Bonifazio 4 carer 3 Strimic mediano Lucas Torrira centrocampo abbiamo puntato moltissimo su Barella in cui abbiamo messo anche una clausola gli ineti ci hanno offerto il massimo almeno 20 milioni ma noi abbiamo rifiutato perchè sarà uno dei eventi fondamentali per me il nuovo Gerard il Gerard polacco Gaston Ramirez che al Bologna era spaventuso guardato in Inghilterra c'è stata un po' di qualità Zapata un animale una forza umana una forza una forza della natura Torres è una storia top è il Torres una storia top capito mondiale la cebbia ha avuto tutto ah capitano Capra Capra ritorne si c'è una seconda volta una botta di Mesa forse a sinistra è un prodotto odd strinic odd è velocissimo ragazzi nel prossimo episodio giocheremo il nostro primo partito di questa stagione in Coppa Italia con Venezia adesso vi salutiamo alla prossima buona serata a tutti